Ela, ciao! Io sono in viaggio e sto andando verso Milano e sono qui con una mia amica, ve la volevo presentare, si chiama Giulia. Buongiorno! Aspetta, ti vuoi vedere come sei carina? Aspetta! Oddio, le orecchie da coniglio! Sì, perché Pasqua! Aspetta, ecco. Buona Pasqua! Senti, Giulietta, che fai a Pasqua? Allora, un sacco di cosine che non possiamo dire. No, non le diciamo. Brava! Sei in famiglia? Sì. Fate la grigliata? Sì. Sei contenta? Io non spoilerare tutto. Sì, tutto, lo sai. Senti, sei contenta? Però ora sì, molto. Molto contenta, com'è molto contenta. Va bene, allora Giulia vi fa tanti auguri, giusto, di Pasqua? Sì, buona Pasqua, ragazzi. Vuoi dire qualcos'altro? O non ti vuoi esporre? Allora, no.